Dopo un 2020 molto complicato, il 2021 si è presentato con ampi margini di recupero. Sostanzialmente i dati economici nella nostra regione in generale, ma in particolare anche nella provincia di Pesurbino, sono dati economici di ripresa importanti, soprattutto per le attività manifatturiere, ancora di più per le attività che fanno dell'internazionalizzazione un must del proprio mercato. Lo abbiamo visto con una crescita esponenziale, soprattutto nei settori della meccanica, della nautica e del legno arredamento, con performance all'estero davvero straordinarie. Questo grazie al fatto che si è potuto di nuovo intraprendere un lavoro quasi normale, nel senso che i viaggi internazionali sono stati possibili, seppur con tutte le limitazioni ancora dovute al Covid, e anche io penso per un rimbalzo emotivo importante, dopo più di un anno di fermo per la pandemia, c'è stata la voglia di rimettersi in gioco, la voglia di rifare davvero una vita normale, e questo ha influito tantissimo fino a questo momento. Ora ci sono due incertezze che possono un po' limitare questo che è un momento di grande sviluppo e ripresa. La pandemia che ancora non è finita, vediamo che in queste anche festività natalizie ci sono delle ulteriori restrizioni, e quindi purtroppo dobbiamo dire che la pandemia è ancora tra di noi, anche se avendo girato all'estero negli ultimi due mesi lo posso dire tranquillamente, in Italia abbiamo una gestione rispetto anche ad altri paesi europei molto molto migliore, di cui mi sono sentito orgoglioso viaggiando. E l'altra grande incognita sono le materie prime, molto difficilmente reperibili, e quando reperibili a costi davvero straordinariamente elevati. Queste due sono le uniche spade di Damocle che stanno rallentando quello che invece era un cammino intrapreso che ci dava tante soddisfazioni e speriamo nei prossimi mesi di poter sistemare queste due situazioni e riprendere la nostra vita normale perché i nostri imprenditori ci hanno davvero dimostrato di essere all'altezza della situazione. Grazie a tutti.